Bata, ti ha fatto piacere il 3-0 in casa con la Lube, che cosa è cambiato la domenica? Sono stati bravi loro, sono stati bravi loro a metterci in difficoltà, praticamente sono riusciti a giocare l'unico di metà al massimo, noi non eravamo a nostro livello, niente, dimentichiamo subito questa sconfitta, è l'unico modo per andare avanti ai play-off, sono fiducioso e guardiamo sabato. Sabato c'è gara 4, cosa dovete cambiare? Bisogna cambiare assolutamente tutto, bisogna provare a giocare meglio, solo giocando a livello altissimo, riesce a vincere contro una squadra ottima come città noi.